Siamo tutti e benvenuti in questo nuovo video che lo sto facendo per la seconda volta perché ci avevo ben iniziato, perché ha suonato il campanello su me e abbiamo tolto, meno male perché mi ha dato un pacco di amazon che non è mio quindi non farò l'unboxing, sono arrivata praticamente a farci l'anticipo, se c'è il mio ragazzo che mi sta fissando è qua, farò la voce fuori campo perché devo fare un videotag che mi ha richiesto, ho trovato una ragazza, che poi vi metterò il link qua sotto, le raggruppa tutti i videotag che sono praticamente contro la violenza sulle donne, quindi ho detto, visto che è un videotag comunque carino, ho detto, lo faccio, più caldo per il messaggio che manda, e si chiama, se non sbaglio, donna sicura, tag donna sicura, se poi mi sbaglierò comunque vedrete poi il titolo, taggerò lei e vedrete poi, andate nel suo canale, se volete iscrivetevi più che altro, è il messaggio, io lo lascio sotto il link del suo canale più caldo perché vedrete che lei ha raggruppato una playlist con tutti i video delle persone che fanno questo tag, poi l'anticipazione vi faccio un altro video qua, per non rovinare il video perché devo essere contro la violenza sulle donne e poi sembra brutto che racconto i cavoli miei, vai a muore con le domande perché il computer ha avuto dei problemi con l'installamento, l'aggiornamento di whatsapp. Prima domanda, ti senti sicura nella tua città, paese dove vivi? Ripetimi la domanda. Ti senti sicura nella tua città, paese, dove vivi? Nella mia città? Sì, nella tua città. Ah, sì, mi sento abbastanza sicura, a parte adesso che abbiamo questo piccolo problema del virus, per il resto sì, mi sento abbastanza tranquillo, cioè a parte che adesso non possiamo uscire neanche di sera, diciamo che un po' particolare, sì, comunque sì, abbastanza, sì, mi sento sicura, anche se sono donne. Seconda domanda. Seconda domanda. Ti senti sicura a uscire da sola la sera o la notte o preferisci sempre uscire in compagnia? Secondo te capiranno le domande? Vabbè, le metto sotto poi nel coso, ovviamente. Allora, uscire da sola di notte? Sì. Diciamo che allora, se sono vicino alla mia zona non mi da passidio. Se invece magari sono in un'altra zona, ovviamente c'è un bel caso con compagnia, la fermata del Puma, però per il tragetto, diciamo, quando anche uscivamo tardi, non ho nessun problema. Cioè, dipende, ovvio che se sono in centro di Torino e c'è una zona comunque con i Briaconi non sono scema, cioè nel senso che comunque, avendo già avuto esperienze, che comunque viaggiavo di notte, eccetera, so come fare, nel senso che so come, diciamo, arginare persone che possono essere potenzialmente sospette, anche perché ho avuto mia madre che da quando avevo l'età di 13 anni pensava che tutti i molestatori e tutti gli omicidi e tutto i serial killer, i pedofili inseguissero me nella vita, quindi sono già cresciuta, prevenuta. Quindi, no, cioè, ovviamente se il mio ragazzo mi accompagna la famiglia del Pullman, aspetta che arrivi il Pullman, poi prendo il Pullman, però, anche se ci sono persone strane sul Pullman, che li metto lì a fissa, ciao, vuoi ammazzarmi? Cioè, nel senso che ci sono persone strane, magari, a parte quello che dico al guido, adesso non posso nemmeno più dirlo perché c'è la transenna, però vedo che sia strano, o cambio Pullman, o sinceramente mi faccio i cazzi miei, tra virgolette, così, e poi li guardo, li guardo in modo strano, così pensano che sono pazza, non mi cagano più, provano di solito, pure non mi metto lo cuffio, mi faccio i cavoli miei. Dipende, saprò la situazione, raccontando che io vivo comunque in una cosiddetta della metropoli, è più lugubre la mia zona, che non c'è nessuno, cioè, praticamente, prima che fanno un omicidio nella mia zona potrebbe essere solo i cani che si sbranano, perché qua ci sono solo anziani e famiglie, quindi diciamo che è più problematico già quando vai in zona Lingotto, zona Centro di Torino, quelle cose là, però ultimamente è tutto deserto, oppure ci sono pattuglie dei calabinieri, quindi siamo più sicuri, tra virgolette, più sicuri nell'ammazzamento, ma meno sicuri in altre parti. Ecco, hai mai frequentato corsi di autodifesa o altre discipline, esempio, Krav, Maga, se sì, come ti sei trovata, li consiglieresti? E in caso contrario ti piacerebbe fare? Sì, ne ho fatto uno, ma ho fatto una prova, diciamo, che poi, cioè, prova, ho fatto qualche giorno, perché era la giornata mondiale, appunto, della, non violenza contro le donne, come si chiamava, la giornata, beh, era, diciamo, facevano questo corso, era un uomo, una donna, facevano questo corso vicino al mio quartiere, era per la prevenzione, appunto, sull'inistra sulle donne, perché chiaramente ti insegnavano qualche meccanismo di difesa per se qualcuno voleva, tipo, stuprarti o voleva aggredirti, queste cose qua, però l'ho fatto per pochi giorni. Mi sono andata bene, ma era un po' inquietante, perché dicevano che, tipo, se qualcuno cerca di violentarti, o queste cose qua, in teoria, devi far finire di starci, perché se lo colpisci nei gioielli di famiglia, si incazza ancora di più. Invece devi cercare di starci poi per, tipo, quello gli toccava gli occhi, tipo, che schifo. O, tipo, comunque non devi tirargli un calcio nei gioielli, perché se no si incazza ancora di più. Oppure, tipo, se sei in pericolo, non devi mai dire aiuto, aiuto, ma devi dire al fuoco, al fuoco, perché le persone si spaventano di più se c'è qualcosa che va al fuoco. Se tu dici aiutatemi, la gente si spaventa, perché pensa che sei inseguita e non ti caga. È una statistica, devi dire in teoria al fuoco, o perché se c'è il fuoco, come se ci sono nel mio quartiere, tutta la gente esce e chiamano piuttosto i vigili del fuoco, ma sicuramente chiameranno anche la polizia. Quindi, se c'è qualcuno che ti sta aggredendo, non dovete dire, aiuto, il tizio mi sta aggredendo, perché ci sono delle tipe e scappano. Se tu dici al fuoco, per salvarsi la vita, è un istinto di autoconservazione. Cercano di aiutarti, invece, non capendo bene il pericolo. Quindi sicuramente chiameranno la polizia, non che gridate mai, mi stanno stuprando! O aiuto perché il tipo mi sgozza. Secondo me, mi stupra sicuramente. Oppure dicono, è una cosa che sembra brutta, ma ve lo dico come consiglio, diciamo che in molti casi, se pensavi di poter essere stupato, di farti pipì addosso. Perché a molti stupatori fa schifo. Perché molti potrebbero essere per benissimi, nel senso che potrebbero avere anche, molto probabilmente, delle ossessioni sulla pulizia. Quindi se ti fai pipì addosso, molto probabilmente non ti stuprono. Perché ti fa schifo. Se metti tutti quelli feticici della pipì, siete proprio fregate, siete proprio stigate. Ve lo dico. Comunque andiamo avanti. Se comunque no, mi sono trovata bene. Lo consiglio, ma a livello non proprio fisico. Cioè, a me piaceva proprio fare una cosa tipo bugilato, queste cose qua. Quello che mi ha fatto a me è più una cosa psicologica, di come affrontare la cosa a livello psicologico, eccetera. Poi non so più a notte a volte, perché c'è stato questo problema che sapete voi. E hanno chiuso tutto. Anche le palestre. Cosa ne pensi di strumenti anti-aggressione tipo lo spray al peperoncino? Lo possiedi? Ti è mai capitato di usarlo? O vorresti comprarlo per sentirti più sicura? No, mi ha dato tantissimi peperoncini, penso che sia inutile. Io sono concorde con l'America col Taser. Quello serve, non il peperoncino, non lo spray al peperoncino. Io sono per il Taser. Che qua in Italia, purtroppo illegale, però anche il Taser rosa, che non è rosa, che molti pensano che sia rosa, è il Taser che possono avere le ragazze e le ragazzine in America, che hanno anche lo proprio peperoncino loro, sinceramente. Ma qua in Italia non l'ho mai visto, sinceramente. Ho visto che sia proprio una cacata. Perché se faccio uno spray con l'olio dei peperoncini di mio padre, penso che la persona muoia direttamente. E quello è gli Scorpion. Se li rifilo quello, lo stupratore muore. Poi mi arrestano a me, perché ho messo da un stupratore. Quindi io sono più a favore del Taser. Una bella scossa nei giorni di famiglia, vedi che non supera più nessuno il tizio. Un po' se lo castro, però... Comunque a parte i sensi sarei veramente favorevole al Taser. Perché penso che... È vero che in teoria potresti formare la persona, però il rosa, il Taser rosa nasce dal fatto che ti dà una piccola scossa elettrica, ma non è un voltaggio altissimo. Cioè non è che non ti stordisce nemmeno, per dire. Ti dà il tempo di scappare, perché la persona comunque la colpisci, non ha un infarto né nulla, però la stordisce abbastanza tempo da potertene andare. Poi per i cavoli tuoi. Io sarei sempre più contenta della castrazione chimica, così siamo tutti a posto, così i superatori se escono o se vengono beccati, non fanno più danni. E va avanti. Quinta domanda. Hai mai ricevuto consigli da parenti e amici su dove colpire un aggressore in caso ti dovresti trovare in una situazione pericolosa? Sì, nei gioielli di famiglia. Grandissimo errore, perché mi hanno detto che non bisogna fare così. Mia madre dice sempre che devo, non mi ha detto mai di colpire qualcuno, non so mai. Mio padre sì, nel senso che mi ha detto, cioè se proprio sono vicina a questa persona, mi ha detto, ho di tirargli un calciolin, bene a se è stato ginocchiata, più che altro, davvero ginocchiata, potente. Oppure se riesco, se non è troppo grosso rispetto a me, una cosa che non mi è mai capitata, perché sono stata enorme, quindi di puntare sulla forza bruta e di cercare di fargli lo sgambetto così cade in base alla persona, se no, se posso scappare, scappo. Molti dicono di accecargli gli occhi, sta cosa mi fa troppo schifo. Sì, perché in teoria dove si diceva, è quello di morderli. Che schifo, mi metto un po' le malattie venere. Poi mi facciamo adesso con la maschina a morderle le persone, vuole capirlo. Comunque, mia mamma no, mia mamma diceva sempre di girare dicendo che mio padre era un carabiniere, un poliziotto, qualcosa a che fare con... Sì, perché dovevo parlare, fin da riparare. Sì, papà, sì, stai riuscendo adesso. E per fare il carabiniere è un lavoro faticoso. Così l'agenzia si allontanava. A volte funzionava. Tipo, una volta è passata la pattuglia e dicevo, ah papà sei in macchia, sì ti vedo con la pattuglia. Ho visto un ragazzo che si è allontanato. Quindi, una volta ha funzionato quando ero piccola. Quindi, grazie mamma, se guardavo questo video non guarda mai i miei video. Una volta ha funzionato, grazie. Avevo usato anche in stazione con me, scusa. Siamo parlando con mio padre e mi poteva stacassare il cazzo stai dicendo. Mamma che me l'ha detto e fa, ah, c'è qualcuno che ti guarda male. Ok, continuo con la storia. C'era uno che mi guardava male in stazione e continuava a dire a mio padre, sì, papà, sì, ah, stai venendo in stazione. Eh sì, stai facendo i tuoi controlli di routine. Sì, perché sono proprio poliziotto. E un tizio che ha il metodostrada. Poi vabbè, ho anche fatto che ero inquietante all'epoca quando viaggiavo perché mi vestivo come da dark con le borchie. Avevo più paura di me che secondo me è meglio di loro, però. Qual è il tuo consiglio personale che daresti a una ragazza che dovrebbe uscire o rientrare a casa di notte da fuori? Sì, tranquilla che adesso ci copri fuoco, non è più questo problema. Non scherzo. Prossimamente, spero, mi auguro quando mi metteranno il coprifuoco. Secondo me, allora, dipende molto dalla ragazza, secondo me. In generale, penso che dipende da che zona abiti. O rientra sempre in macchia, se puoi, se hai la macchia o la possibilità. Possibilmente con qualche tuo amico male, ma non per qualcosa discrimente contro le donne, ma perché, secondo me, se vede meglio. Perché, secondo me, se ti vedono come un uomo, se ti vedono già con un'altra ragazza o se non è proprio un armadio, secondo me, se vede meglio o con un amico, o con il tuo ragazzo, o con il tuo fratello, in base alla persona, e se hai una borsa come la mia gigantesca, lanciate in faccia. Fidati che li fai male. Perché io ho una borsa gigantesca con dentro di tutto. Se io gli tiro la borraccia, gli spacco la faccia. il metallo. La mia borsa è un'arma. Poi, io sono... Non è che sono contro le armi. Diciamo solo che in un certo modo in giro con la pistola la vedo se potessi come in America, però non sono del tutto contrario. Però non mi porto armi dietro, ovviamente. La mia borsa è già un'arma. Diciamo solo che, secondo me, se pensi di essere seguito altro, usa sempre gli specchi. Praticamente sono le vetrate dei negozi. Io uso quelli. oppure ho provato di parlare al telefono e intanto ti guardi indietro, eccetera, sapete che qualcuno ti segue e inizia a parlare di cose strane tipo che potessi essere potenzialmente una serial killer o queste cose qua e il tipo si allontana. Oppure di... Scusa mia madre. Di che tu padre carabiniere o che poliziotto o ti inventi qualcosa del genere tipo che stai parlando di altre cose con la polizia. Non rale mai tipo sto chiamando la polizia perché la gente non ci crede mai. Penso che... Più che altro a me questo mi hanno insegnato ovviamente di non dare corda alla gente nemmeno di farne incazzare tipo se un tipo strano ti parla tu parla in un momento e poi te ne vai. Riesci, te ne vai e boom. Più di questo non posso dire perché poi va a esperienza va anche a persona. Tutto quello. Vai. Una delle mosse consigliate per difendersi da un aggressore è il classico calcio o ginocchiata nelle parti basse. Che ne pensi? La utilizzeresti o proveresti altre tecniche di difesa? Ho detto prima sì la utilizzerei perché mi è anche consigliata però non mi è mai capitato grazie a Dio di trovarmi tanto vicino a una persona ammalata di mente da doverlo castrare io stessa quindi sinceramente no. Allora io non la consiglierei perché se si può eviterei proprio il confronto. Piuttosto anche io a volte parlavo con i pazzi sul pullman però diciamo che cercavo poi qualche modo di deviare la cosa anche sul tre non mi capitava magari cambiavo cabina o andavo a chiamare qualcuno queste cose qua le voce non andavo mai a diciamo uno scono dopo se dovesse capitare una bella ginocchietta potente ma non dove aspettarsi per far finta appunto di essere cordiali e gentili ma rispondere male a questa persona che si sgozza secondo me a parere mio di essere di starci di essere amichevole e poi se fa troppo ho inventato di essere un transessuale che funziona anche quello oppure una bella ginocchietta nei gioielli ma potente in modo che si accascia soprattutto nelle lingue non tanto nei gioielli le lingue vada sei mai stata in una situazione specifiche con un ragazzo esempio di essere seguita o importunata da un ragazzo se sì come ti sei comportata sì tante volte allora quando giravo da più piccolo assolutamente negli ultimi tempi no perché c'è il coprifuoco mi è capitato quando ero alle medie e alle superiori nei primi tempi quando non giravo ancora in branco come dicevo io perché non tutti avevano la macchina quindi in zona lingotto ci è capitato quando eravamo io e delle amiche che c'erano degli ubriaconi che ci seguivano ragazzi giovani le amiche gli ho urlato se vi avvicinate vi castro tutti hanno continuato comunque a seguirci diciamo che appunto l'aggressività non è mai la migliore la migliore della coda diciamo solo che poi hanno smesso di seguirci per il semplice fatto che io ad esempio mi era in mente una gran amica che fa ah sei lato tuo padre sì è poliziotto è già poi è passata una pattuglia della polizia proprio lì a pennello ciao papà ecco tutto i polizioti hanno visto che stavamo al gioco e se ne sono andati poi ho capito varie volte in pulma mi sono beccata anche i drogati con le siringhe di tutto mi sono beccata fortunatamente po' perché è un aspetto ambiguo non mi hanno mai rotto i coglioni grazie a dio quindi sì mi sono capitati ragazzi che magari uno mi aveva anche urlato in macchina tipo ciao bella porcone polcano però poi finisce lì la cosa nel senso che io non li do retta basta se ne vanno i miei solelli suonavano anche con il claxon però da proprio contatto contatto no cioè evitavo i posti il massimo che mi guardavo il contatto è stato un rave uno ubriaco che era talmente fatto che manco sapevo che cazzo era potevo essere anche un uomo che mi ha toccato il culo e basta gli stavo spettando una mano però secondo me era talmente fatto che manco l'ha sentito perché era proprio così era tipo quindi questo problema non è mai presistito ecco perché mi inquietavo terrore all'epoca ecco la nona domanda quale predio fisico caratteriale potrebbe vantaggiarsi in caso vantaggiarti in caso dovresti no dovessi difenderti e quale difetto invece potrebbe svantaggiarti vantaggiarti non ho capito la domanda quale predio fisico caratteriale fisico e che sono grassa e se no non sto scherzando se no che sono molto comunque non sono minuta ecco bisogna non sono piccolina diciamo che anche se qualcuno ci provasse a non so eccetera diciamo che la mia mole di peso mi aiuta io do una culata l'ammazzo però diciamo che la mia mole di peso mi aiuta molto insomma prima era più grassa però diciamo che a parte che tanto i pedofili non si fanno scrupoli anche se uno è grasso come una balena lui comunque anche perché molte volte l'ho noto quando mi trucco mi scioglio i capelli tipo esco così e nessuno mi caga allora può avere fame quando mi sasciola i miei capelli mossa tutti nel pulmo anche mi seguono ciao ma si vede che ti alleni ma alleno che è tutto chiuso comunque ci sono quelli che ci provano però diciamo che un mio svantaggio è il fatto che sono ho i capelli rossi fisico caratteriale che potrebbe svantaggiarmi forse che sono un pochettino testarda forse non so che cazzo guardano dei caratteri scusami se uno ti stupra non è che ti sta a dire ciao com'è il tuo carattere cioè non sono una persona insicura a quel livello là cioè magari potrei essere stupida che non mi accorgo che uno mi sta seguendo ma di solito me ne accorgo però no nel senso caratterialmente no magari fisicamente potrebbe essere il fatto che sono un po' letta a correre sì però le scoperte sono state per la ginnastica quindi se devo correre corro piuttosto la borsa forse è un problema che pesa tanto la mia borsa però per il resto non saprei difetti cioè difetti fisici o caratteriali che mi possono impedire di salvarmi la vita se devo scappare no sono ancora viva no nel momento del bisogno penso che qualsiasi difetto abbiamo sia caratteriale sia fisico se proprio uno ne zoppo perché zoppo se proprio non ho il piede ingessato non penso di avere nessuna al suo momento col collo inchilosato insomma però diciamo che comunque ci sono i pulmi ci sono i taxi c'è qualsiasi cosa che ti puoi prendere qualcosa te lo inventi tipo a me è successo che a una mia amica il tassista aveva dato una corsa gratuita perché le stava appunto scappando da un maniaco gli ha dato l'accompagnata fino addirittura alla caserma dei carabinieri perché si era spaventata e questo la inseguiva perché non si è soccorrere e lei è costretto un taxi gli ha detto vada dai carabinieri ha fatto la denuncia perché l'ha pure vista in faccia anche se è contro ignoto in teoria cioè non proprio ignoto ha fatto la denuncia ma non sava chi era il tipo l'ha solo descritto tutto perché l'ha tratto in piazza Vittorio quando era buio quindi cioè comunque la gente ti aiuta non è che ti lascia morire ci spera però no a livello caratteriale no sono passata abbastanza forte no no cioè non penso che ci sia qualcosa che in mio carattere mi bloccherebbe fisicamente forse ha fatto che di essere grassa può essere un suo vantaggio che ho vantaggio non so fino a che punto posso correre veloce giusto presi sono neppure o altro o magari entri nel bar e poi facevo così anche ma ecco che male al collo che ho l'ultima domanda l'ultima domanda ti chiedo di il favore di condividere questo video con più donne possibile e non devo taggarle si andate a taggarle allora portafetto che buissimo adesso vabbè di pazienza e allora per questo tag vi ringrazio la ragazza che mi ha praticamente stalkerizzato per fare questo video mia mamma mi ha chiesto sia nei commenti sia per i mail l'ho lasciato apposta per le collaborazioni però comunque sono contenta che mi hanno contattato taggo allora se non l'hanno già fatto ovviamente non lo so perché magari noi pre-registriamo i video quindi non lo so io taggo le persone se vogliono farlo lo fanno la gemella betta che lo farò ovviamente in asmr però ognuno di farlo come vuoi tanto anche la dell'asmr l'ha fatto in asmr quindi la gemella betta taggo e la stefi si ti voglio bene stefi anche tu fare i tag donne poi taggo laura gioia sperando che lo faccia non so se lo farà taggo poi che cazzo taggo ha detto che lo dice un uomo no posso taggare sofia sofia che si chiama non mi ricordo il nome del canale ma sofia capirà e poi vabbè qualunque donna voglia farlo fatelo che è comunque un bel tag secondo me ci può stare perché comunque è sulla la violenza sulle donne quindi ci può stare vi lascio sotto le domande che le ricopierò con molto amore e gioia e niente poi vi lascio sotto appunto il link del video originale del ragazzo che mi ha contattato e ho finito ma comunque qua c'è la mia voce fuori campo perché in teoria devo mettere domande sul computer per leggere non c'ho voluto di scriverle e lui mi ha fatto da voce fuori campo saluto amore ciao non può fare il video più a me perché è un uomo però mi chiede una cosa sessista perché secondo me può essere anche bullizzato un povero uomo non so per le donne però dicevo che magari noi donne siamo un po' più appetibili forse anche perché ammazzano sempre le donne non si sa come mai l'altro giorno hanno ammazzato una forse il fidanzato l'ha buttato in un burrone durante una festa che poi mi ha dubbio di caldo la festa come hanno fatto farla se siamo in questo in questa situazione di un po' di M di giù cosa c'è da che di giù amore lo so mi hanno fatto la festa in un bosco con la cosa che aveva usato nel burrone poi fa cadere nel burrone hanno spinta hanno spinta e poi il ragazzo lo sapeva precisamente dove si trovava ma non sono colpevole io ho visto chi l'ha spinta per quello dico come fai a sapere precisamente dove la tua tipa è finita poi hanno detto che si sono pure prima gli amici avevano visto che loro discutevano per lui era molto geloso ovvio che pensi subito al tipo scusa sai precisamente dove praticamente l'hai ammazzata cioè sei geloso e lo sanno tutti la tipa cosa strana è caduta dal precipizio se non aveva ubriaca aveva Doardo che litighi col tipo 5 minuti prima e poi sei un burrone comunque poi ognuno fa quello che vuole comunque non è caduta ammazzare le persone nel senso che l'indagine poi saprà chi è stato ma sicuro se vuoi il 100% sarà stato il tipo se va a una festa e lei magari che ne so parlava con un altro questo si è preso male magari era pazzo perché sono tutti così eh c'è alcuni che sono pazzi come quella che ha dato fuoco alla tipa e non è un bellino per la tua silenza sì sì comunque sentiamo un bel pietoso su queste cose qua e niente finisco qua il video che ho durato abbastanza come mi sembra i miei video durano sempre tanto però il videotag comunque poi metterò una bella copertina che gentilmente il mio ragazzo mi farà però io lo dico sempre che il mio ragazzo mi fa le copertine guardate com'è felice ciao amore lui è felice no no anche io sul collo sono questa ragazza vi saluta ciao io vi saluto e non gli farò la copertina ma che cattiveri di modo aia poi esce il tag evidentemente sugli uomini della parte delle donne ciao lasciate like mi raccomando condividete il video perché è un messaggio importante anche se è lungo mettete un like perché te lo mettete anche dislike no perché si vedono i video che con tre visualizzazioni è un like in questo caso strano io oggi ne avevo sette con manco un like il mio ciao alla prossima